Depositati rinvia a giudizio per la strage alla funivia del Mottarone del 23 maggio 2021. Chiesto il processo per otto indagati, il gestore i tecnici ma anche la ditta fornitrice della funivia, la Leitner. Oltre a loro, chiesti il processo anche per le due società ferrovie del Mottarone. Le indagini coordinate dal procuratore capo Olimpia Bossi e dal PM Laura Carrera sono state chiusi il 19 maggio scorso, due giorni prima del secondo anniversario della tragedia, avvenuta il 23 maggio del 2021. Due gli elementi al centro dell'inchiesta, le ragioni per cui la fune traente si spezzò e il mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza, dovuto all'inserimento dei cosiddetti forchettoni. Per accertare le cause sono state prodotte due perizie, depositate nel settembre dello scorso anno e successivamente discusse nel corso dell'interrogatorio, tra ottobre e dicembre, che hanno rivelato che la fune era corrosa ben prima dell'incidente e che una corretta manutenzione avrebbe potuto scoprirlo ed evitare la sciagura. Intanto proseguono le trattative per i risarcimento alle parti offese, che in caso di accordo potrebbero uscire dal procedimento.